ciao ragazzi soprattutto oggi luca attanasio dal mio amico capitano america oggi voglio recensire una lampada invita su amazon.it parliamo di aukey ditta cinese azienda cinese che sta lavorando veramente molto bene producendo prodotti grande qualità questa lampada con 7 gradi di illuminazione lampada led che cambia colore o meglio calore modello lt t10 ha una particolarità è quella di ricaricare con una ricarica da oltre 5 volte a un ampera anche cellulari ma facciamo subito l'unboxing e vediamo cosa esce da questa scatola così spartana classico di aukey allora apriamo la nostra scatola chiedo gentilmente a capitano america di spostarsi un pochettino scatola spartana ma con tanto polistirolo e tanto imbottitura antirottura questo è il primo unboxing assoluto dopo la tesseremo insieme warranty card classica di aukey ormai immancabile libretto di istruzioni anche in italiano sicuro al cento per cento infatti anche in italiano all'interno troviamo la nostra lampada ovviamente ben piegata ben imballata e abbiamo il sistema scusate tutto live il nostro sistema di alimentazione un trasformatore che alimenta la nostra lampada mettiamo la scatola da parte il betto di istruzioni ce l'abbiamo visto abbiamo visto tutto scartiamo ovviamente insieme la nostra lampada quindi tutta bella piegata eccola qua veramente molto ampia questa lampada anche l'escursione fatichiamo un pochettino le buste perché è sempre complesso sfilare via queste buste perché speranze sono ben ben messe ecco qua ovviamente aukey precisa come sempre continua nelle sue le sue imballaggi molto ben fatti voglio fargli vedere proprio tutto perché veramente la lampada merda guardate un pochettino questa è la fascia luminosa che si accenderà mandiamo via le nostre buste anche nella parte anteriore immancabili le buste ricordo che ci sono i comandi completamente a aggiornamento dove è possibile regolare tutti i livelli di luminosità via anche questo via anche nella parte sottostante ho fatto un unboxing con voi davvero particolare perché questa lampada è veramente bene imballata addirittura questa particolarità guardate ruota completamente ruota anche il nostro illuminatore di 180 gradi sia a sinistra che a destra ampia la fascia di illuminazione che vedremo tra pochissimo veramente materiale molto ben fatti questo nero lucido la possibilità di piegarla anche in questo modo qui è come sempre scusate i nostri comandi a sfioramento che sono posti una parte anteriore ma passiamo ovviamente al test di funzionamento la parte posteriore della lampada qui abbiamo l'ingresso per l'alimentazione un'uscita usb out da cinque volte un ampere quindi ottimo per ricaricare tutti i tipi di cellulare tutti i tipi di smartphone assolutamente ma passiamo subito al montaggio della nostra alimentazione capital america di essere qui per l'illuminazione andiamo a inserire il nostro jack vi faccio vedere il funzionamento di questa lampada che è davvero simpaticissimo abbiamo addirittura qui vi faccio vedere una modalità notte scusate un attimo ecco qua abbiamo questa modalità qui che vedete con la mezzaluna che la modalità notte che consente di accendere la lampada solamente con alcuni led notturni vi faccio vedere andiamo in modalità notte ecco qua abbiamo acceso la modalità notte si è spinto il led che sta qui così si spegne ecco qua si accendono questi tre led che servono ad illuminare la nostra notte ma passiamo all'accensione vera e propria della lampada ecco qua estremamente potente ma la cosa bella è che c'è la possibilità di poter cambiare il calore della luce ecco qui la luce fredda mano mano aumenta l'intensità questa è molto calda e poi diventa fredda ampio spettro di illuminazione parliamo di un'illuminazione che va da 3.000 a 6.000 k quindi il calore cosa molto comoda questa questa questo sistema per abbassare la luminosità a spioramento vedete a secondo della potenza cambiamo ovviamente la tonalità saliamo fino a 6.000 k la spegniamo accendiamo la nostra lampada notturna molto carina voglio ricordare una cosa molto importante assolutamente importante ci tengo a dirlo questo tasso dell'orologio una volta premuto si illuminerà un led blu all'interno e automaticamente questa luce dopo 60 minuti si spegnerà da sola quindi potete lasciarla accesa tranquillamente dopo 60 minuti assolutamente si spegne vediamo l'illuminazione come funziona sul nostro amico capitano america guardate come bella l'illuminazione cambiamo questa è la luce bianca chiara per chi desidera questo tipo di luci ma possiamo tranquillamente cambiare fino a salire 6.000 k guardate quanto è bella fantastica devo dire la verità molto comodo l'escursione possibilità di rotazione a 180 gradi della lampada cosa dire un ottimo prodotto ad un prezzo concorrenziale ampio raggio d'azione di questo braccio mobile non stanca gli occhi davvero davvero molto comoda l'illuminazione è ben diffusa come vedete quindi cosa dire per chi volesse iscrivervi avere informazioni può farlo a gianluca.attanasio occhiocciolaico.it sono a vostra disposizione per quanto posso ci vediamo alla prossima recensione da ora è tutto da ok gianluca attanasio è il mio amico carissimo capitano america che mi fa sempre compagnia ciao ragazzi grazie